Ha fatto il discorso di grande seduzione e per quello che riguarda la cultura io gli ho chiesto di riaprire in maniera decisiva cinema, teatri e musei senza la ridicola misura del sabato e della domenica che serve solo a dire non venite. Mi pare che abbia convenuto perché mi pare un gesto che quando tu stabilisci il numero di persone che possono entrare consente che la cultura riprenda fiato e non sia una specie di concessione che era la cosa più terribile del governo Conte. Un uomo che ragiona e pensa al lavoro e pensa alla depressione da cui bisogna togliere le persone e tra uno dei modi per togliere la depressione è consentire che ci sia la libertà di accedere ai luoghi della cultura. Quindi il sabato e la domenica credo che potremmo al di là di come sarà questo governo ritenerlo una misura su cui il Presidente Conte è assolutamente convinto.